A Villa Vintem, nella periferia ovest di Rio de Janeiro, ragazzi e bambini hanno bisogni enormi. Crescono tra le insidie legate al narcotraffico e alla prostituzione minorile. Di loro si occupa la ONG Progetto Liberdagi, nata da un'idea di Riccardo Padula, un ragazzo di Lerici che ha scelto di partire come missionario laico, prima in Amazzonia, poi a Rio. Qui ha conosciuto la donna che è diventata sua moglie, Patricia Felix. Insieme hanno vissuto anni di impegno sulle strade, sostenuti da molte persone, soprattutto dalla provincia di La Spezia. A parlarne questa sera in Missione Mondo Giuseppe Mecconi, illustratore, insegnante e regista spezzino che da tempo ormai collabora con l'associazione. Dall'Italia, insieme al padre di Riccardo e a qualcun altro, collaboriamo. Siamo riusciti anche, grazie a contributi molto importanti di alcune parrocchie della comunità spezzina, ad aprire nel 2003 una scuola proprio nel quartiere di Padre Miguel, dove alleviare i problemi di questi ragazzini. La vita della favela prosegue Mecconi e è frenetica. Ragazzini difendono le strade del quartiere armati di tutto punto. Spesso dei petardi esplodono per avvisare dell'arrivo di una banda rivale o della polizia. In questo contesto, tuttavia, la gente si aiuta, c'è solidarietà e un generale senso di appartenenza e di comunità. È qui che si inserisce il progetto educativo della scuola, dove i giovani possono trovare un centro sicuro di crescita personale. Patrizia è laureata in psicopedagogia, riesce a proporre dei progetti alla Municipalità di Rio de Janeiro e portiamo avanti dei progetti mirati sotto vari aspetti scolastici, ma anche di corsi per andare al lavoro. Riccardo è un elettrotecnico, quindi sa spiegare bene queste cose, le insegna e come lui ci sono altri che insegnano quello che sanno fare, in modo che i ragazzi possano avere anche un lavoro successivamente a questi laboratori.